17 dicembre 1987. Muore Marguerite Jusenard, al secolo Clean Work de Crayencourt. Scopre giovanissima la passione per la letteratura e la scrittura. A soli 17 anni pubblica la sua prima raccolta di versi, Le Jardin des Chimers. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Jusenard si trasferisce negli Stati Uniti, di cui diventa cittadina nel 1947, pur continuando a scrivere sempre in francese. Nel 1980 è la prima donna ad entrare a far parte dell'Accadémie francese. Del 1951 è il suo romanzo più famoso, Memorie di Adriano. Noi abbiamo una sola vita. Se anche avessi fortuna, se anche raggiungessi la gloria, di certo sentirei di aver perduto la mia se per un solo giorno smettessi di contemplare l'universo. Da Pellegrina e Straniera, 1989.